Garza la manina No, quella con cui ho vinto Quella è come il Veneglio e due tempi, devo dire io Se non c'è una cosa, signora, pure frenzi No, 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 no No, 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 no No, 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 no Scusa, sono sbagliato, sonnello Stavo guardаe' a Mignotti quall'ho it! Toi Gini, per contisi Scriveva Messarina Altino a Torello Non feći troppe peseghe Sinon e ti scemo Deppe Ombigliana Crede bado un malokio Buse bese buse Parti bento finocchio Palle, palle, palle Us' è già Uff? Palle, palle Parli, pajaklamp pouquinho il secondo in english the second il secondo mi serve un uomo vivo il comune bravo come le chiamici dottore Alberto a Roma se uno gli vuoi di Procio non mi la dici Procio questo le Proci se le intende mi immaginava moda come cazzo sia favore per tutta l'Italia dove sei non mi ricordo Modena sono tutti Modena viva Pesano questo è per lei vai mamma mia è arrivata tu moglie ce l'ha accorteso sta guarda storta non è fa parte dello spettacolo devo andare a far culo toccate i coglioni questa porta male ma mamma mia questo ha posto con i tre papi e più e spavarazzi che le mandano a vede se crea i coglioni lo sapete che è questa? ti ricordi il film del Marchese del Grillo? quello che faceva secca i coglioni è questa? che mi ha toccato? si come si rigidisce tutto tocca qua Lazzaro mi piace? ma che mi piace? e vieni un po' più indietro senti mentre canto mi metti la mano qua non ce l'hai? mi manda la tua sorella la marina Lazzaro alza la cammina si mi dà una risposta il quittesimo ma fu così che allora facendo un'avventura e con per cazzo fuori freddava la cammina ma d'anno trate il quiceto bene arrivano fuori al bulone quando cazzo fredda più io non so da qua o vede ma te in Italia ma ha detto alla moglie che ci mette la mano io lei è la moglie vero? di chi? sempre morire il cazzo di qui il terzo in English dica senti qualcosa? devi una cagata? con la cassa una cassa si cassa amore se va cagata la merda dunque mi chiedi che cagli c'è niente certo recupera quello non ha perdito scusate se ho detto cassa mi è scappato il terzo in English a parte in schede in English si dice come si dice? vai tu mettere la lingua c'è una lingua c'è una anaconda questa è bisorcuda è biforcuda l'anaconda questo è sorcuda figlio il terzo io quasi quasi lo salto perché che mi serve un bel ragazzo e che cazzo c'ho qua? vai lui sei morto? sei morto? il terzo lo salto sai che facciamo? te ne vai? te ne vai